Quattro, tre, due, uno, vai! 150 E alla pianta, sinistra a tre, questa in fondo, sinistra a tre, sudosso, in sinistra a due, chiude Sinistra a due, gira, chiude, chiude la pianta qua, chiude, 20, destra a tre, scende, 30, sinistra a tre, sale, sinistra a tre, sale Per destra a tre, dentro, per destra a tre non tagliare, eh, destra a tre, 20, dorso dritto, sinistra a tre, sinistra a tre, 50, vuoto Sinistra a tre, per destra a tre non tagliare, sinistra a tre, per destra a tre non tagliare, non tagliare questa, eh in sinistra 3, due tempi sinistra 3, due tempi, occhio a pietra bravo, sinistra 3, due tempi, occhio interno bravo, 20 20 destri, 30, sinistra vai sinistra vai, 30 la pianta, destra 4 150 150 sinistra, indosso destra, 30, occhio in sinistra 3, sinistra 3 per destra 3, sì in sinistra 3, 30 destri 30 destri, destra vai 50, destra 4 30, sudosso sinistra in destra 4, scende sinistra in destra 4, scende 50, bravo, destra 4 lunga, 50, destra 4 diventa 3, scende destra 4 diventa 3, scende 50 sinistri, e al vuoto sinistra 2 dentro, dentro destra 4, diventa 3, scende 50 sinistri, e al vuoto sinistra 2 sale, sinistra 2, sale per sinistra 2 chiude sinistra 2 chiude occhio sinistra 2 chiude dosso dritto sinistra 3 lunga 30 30 e alla pianta sinistra 4 su dosso stai a destra occhio e sasso 300 dossati adesso lo abbiamo qua 300 dossati sinistra 5 300 dossati bravo sinistra 5 per destra in sinistra 5 lunga sinistra 5 lunga e alla pianta sinistra 4 no non muovere tanto il coso destra 4 no tossata 150 150 e alla pianta destra 3 in sinistra 3 occhio e non perdere destra 3 in sinistra 3 tutto dell'una sinistra 3 per destra 3 lunga scende destra 3 lunga scende bravo 50 sinistra 4 per destra 3 in sinistra 4 cosa è successo sinistra 4 destra 3 sinistra 4 150 tossata 200 occhio 200 tossata alla buca occhio alla pianta destra 5 200 dossati che ribusa qua vi sia pianta occhio destra 5 50 destra 5 per sinistra 5 200 dossati destra 5 per sinistra 5 bravo 200 dossati e al vuoto dossati 200 e al vuoto destra 2 non tagliare non tagliare occhio non perdere destra 2 non tagliare 30 bravo non perdere 30 sinistra 200 sale inversione vai bravo così drissare rode 200 bravo drissare rode 200 e occhio in fondo destra 3 apre 50 destra 3 apre dentro 50 destra 4 lunga occhio interno non tagliare non tagliare questa per sinistra non tagliarla per sinistra 5 lunga addossata 300 lunga addossata 300 via dai tranquillo di sinistra 4 per sinistra 4 lunga giù sottra vai sinistra 4 per sinistra 4 lunga lunga 30 destra 5 lunga qua se ti avvili bene ti aperti destra 5 lunga 150 destra 5 lunga 150 sinistra 6 vai a tutta veloce qua mai paura sinistra 6 adesso sinistra 6 dentro dentro sinistra 6 sinistra 5 lunga lunga chiude no sinistra 5 lunga lunga chiude no chiude destra 4 è il muro tornante sinistra occhio il taglio guarda occhio il tornante seconda fase seconda e tiri la tetra fuori non acerano forti 50 cambia 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 sinistra in destra 6 lunga lunga destra 6 questa deve oggi destra 6 lunga lunga 200 destri al sasso sinistra 4 e al masso in fondo dentro dentro sinistra 4 30 destra 5 dentro destra 5 in sinistra 3 occhio ti aperti se no sinistra 3 150 e la pianta occhio prossima volta la pianta destra 5 lunga no destra 5 lunga non tagliare sta in costia qua lunga no 50 sinistra 6 per destra 6 lunga lunga sinistra 6 occhio per destra 6 lunga lunga 50 occhio i sassi questi 50 sinistra 3 gira no stai nei carabine bravo sinistra 3 gira no sinistra 3 gira no occhio all'interno 70 al vuoto destra 3 no al vuoto destra 3 no 150 occhio interno sempre destra 3 no 150 sinistra 3 100 sinistra 3 100 destra 5 100 100 100 destra 5 100 vai 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 tranquillo 100 è alla pianta sinistra 4 no sinistra 4 dentro sinistra 4 no 100 100 destra 5 sinistra 4 no 100 è alla pianta sinistra 2 occhio eh sinistra 2 vai vai così bravo 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 per destra 2 lunga gira c'è la fine prova occhio interno bravo 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 a girare interno sinistra 4 lunga buono 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 bravo